Ho il timore che vi sia una grave disattenzione della politica alla lotta alle mafie e che solo magistratura e forze dell'ordine siano sul campo. Impedire le comunicazioni tra mafiosi in carcere è urgentissimo, così come porre un argine alla collaborazione tra colletti bianchi e mafiosi. A dirlo il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, commentando l'operazione dei carabinieri. Colpisce la figura di Gallea, mandante all'omicidio in semilibertà, che aveva ricostruito la sua cosca, dice Morra, e quella dell'avvocata Rosalia Porcello, che aveva fatto istanza per togliere il 41 bis al boss Falzone. Ancora una volta si disvelano gli intrecci tra professionisti e criminalità organizzati in un groviglio messo ben in evidenza dalle inchieste calabresi e non solo. Colpisce la possibilità di comunicazione nelle carceri dei boss, aspetto che ho sempre sottolineato come gravissimo e a cui ho dedicato audizioni in commissione antimafia. Morra sostiene che adesso più che mai sia necessario non far finta di nulla e non dimenticare tutto il giorno dopo. La politica deve fare la sua parte e farla presto.